bella raga siamo in un nuovo video dove faremo una battaglia nelle 50 contro 50 proveremo a vincerla anche se è molto probabile appunto sono subito in safe stranamente probabile vedremo come andrà se la vinciamo proviamo ad arrivare a 5 like a raggiungimento di 5 like faremo una roba che spero e credo che mi piacerà ormai tu mi rubi il pompa ti ammazzo mi ero dai non mi rubi o poi siamo fuori da qua ancora lui ancora lui il per seguito sto qua ora la nuova arma per due cieco eh sì per 400 di metallo no no la nuova arma non so che io la voglio provare non frega la voglio trovare non farò un metallo comunque perché non lo sapesse qua sotto per quelli che cercano le paperelle spaccate sto qua a questo commercio se vedete una paperella sotto questo questo anche 400 non è tuo cuore ancora lui ancora quello che rompe sono già 200 quindi buono non c'è non c'è non c'è non c'è dai 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 prendi prendi dai per uno presa 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 nuova arma presa diamo la nuova arma yes anche qua si vabbè muni sono un tre colpi inutile verdure del caolo mi serve il passo di muni dove trovare armi cioè dove trovare muni lo sapevo facciamo così non c'è non c'è non c'è c'è la casa di muni guardate niente con pokemon deve mandare però non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma questo appare il mio è forte si chiamava un po' fucile come il lampo a fucile quello no quello normale quello classico che c'è da l'inizio del gioco è andato ma eeeh muni muni finalmente non mi frega dell'assalto blu me lo vorrei prendere però no menzi perché no perché no perché no non capisco perché abbiamo il c4 che ne serve una misca vai 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 così siamo in minoranza facciamo già bene sei un cecchino scrivetemi qui sotto nei commenti qual è la vostra arma preferita in fortnite facciamo una challenge l'arma il commento dell'arma preferita che avrà più like farò un video al riguardo dove userò solo quell'arma in tutta la partita singolo o anche duello non cambia niente dovrebbero aggiornare sulla play che i video non si interrompono perché se no io devo fare 3000 video devo fare 2 video che sarebbero in un video solo però non posso perché quelli del di sto gioco del cavolo cioè se quelli della play non mettono sta rollo la cassa di money presa l'han presa vai salto della fide non ci arrivano nemici pesa cosa di money no grazie ehm 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 già già ma c'è un distributore è grigio guarda che schifo mi potrei prendere due robe la c'è già fight la sedi monica la sedi monica la sedi monica l'han presa comunque il il raggio telecomandato l'han tolto perchè mi sa che ero un po' troppo OP e presto aggiungeranno anche il jetpack da quanto ho sentito il riguardo aggiungeranno il jetpack e secondo me sarà molto bello ma molto bello una jump trovare una jump sarebbe molto utile però niente però proprio una roba niente allora la c'è il fight la comincia il fight siamo 36 contro 30 buono dovremmo essere fra poco 35 contro 30 hanno usato una jump hanno usato una jump la vorrei anch'io la jump grazie ma quanto caro ha perso ci sono stati laggi stupido dov'è si è laggi cosa lo vuoi colpire è morto un nemico sicuro non c'è ta è morto qualcuno cioè lo faccio esplodere io no magari si no ma si prende tutto loot giustamente grazie è una storia italiana popo sto lasciando robe no meglio questo trovo una scala no se la devo utilizzare guardalo non si può prendere guarda quanto guarda quanti loot non c'è nessuno qua albero spacchiamo sto albero che mi cade l'air drop questa partita si vince che bella raga ho preso rega ah ma c'erano due ho segnato da fare di farlo tantissimo tantissimo no ma ho preso la mitragliatrice quella grossa vai raga dove sono ok l'ho provata lanciamo delle robe contro 7 siamo dove sono sti nemici cavolo ah ma è lì un nemico avanti sotto vadooo atterrato godo e zitto Guarda quanto loot Non mi serve niente Prende la mitragliatrice E' simpatica sai come no Quanto loot che aveva sto qua Ho un raggio Un raggio utilissimo a quanto pare Oh fra 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 Colpi raggio Colpi raggio Colpi raggio Che cavolo spari Anzi Siamo cosa rega Poi hanno aggiunto la safe più vicina Dovremmo vincere Siamo contro uno Ma mori Rega mi date mu- Ah ho svegliato rega Munirazzo 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 Ce l'avete? Non ce l'ha Rega devasto io Troppi colpi Abbiamo vinto Tantanana Un rinvio Abbiamo vinto tantissimo Riii Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un pollicione su Iscrivetevi al canale Lasciate ancora un pollicione su Per questa bellissima vittoria E niente Condividete il video E niente Ciao raga